Parliamo del Social Day 2017, studenti al lavoro tra giardinaggio e pulizia e anche a Bassano per raccogliere fondi a favore di tre grandi progetti. Siamo i ragazzi del liceo scientifico Jacopo Daponte, oggi 8 aprile 2017 abbiamo fatto il Social Day, un'iniziativa che mira a guadagnare fondi da devolvere a dei progetti. Studenti volontari per un giorno, c'è chi a Rossano ha fatto le pulizie di primavera, chi ha ripulito sentieri come il liceo scientifico Jacopo Daponte e poi c'è chi ha prestato le proprie braccia per lavare le vetture in un improvvisato autolavaggio come è successo all'oratorio Santissima Trinità. C'è chi ha coltivato orti e fatto manutenzione del verde, è tornato il Social Day, un'iniziativa fatta dai giovanissimi per aiutare il prossimo. Abbiamo pulito i sentieri del Brenta da Sarson a Campese con il gruppo Geokai di Bassano. Oltre 3.000, circa il 15% del totale, gli studenti della zona di Bassano. Il ricavato ha già un obiettivo di spesa, anzi 3, la costruzione di una scuola in un villaggio della Costa d'Avorio, l'allestimento di una sala parto in Tanzania e la scolarizzazione delle donne del Nepal. Un'esperienza di cittadinanza attiva che consente così la realizzazione di progetti concreti attraverso la cura del proprio territorio.